Grazie Consigliere Arbue, grazie Consigliere Arbue. Allora, sul momento, chiedo la parola e intanto invito ai Consiglieri che si sono allontanati e che vogliono prendere parte della vocazione di intervenire, praticamente io ho una casa di interventi dove vuole una situazione libera, così com'è. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Chi vota contro? con un voto contrario chi si astiene? 2 e 3 assente quindi 3 quindi 3 quindi 3 mettiamo per limitare la sicurità chi è favorevole? 13 chi vota contro? limitare la sicurità 13 mentre non cominciamo sicuramente il voto della solidarietà chi vota contro? chi si astiene? 1, 2 scusate 2 contro e 2 assente sono la parola al sindaco sono 30 secondi per ringraziare per sottolineare la volontà e la politica delle persone presenti per dare un progetto a nostra vita a Mersimo e a Francesco Sartre che avevano fatto prima e un particolare ringraziamento a Francesco Sartre ho letto le sue posizioni sulla sala qualche tempo fa in ordine alla disette erano argomentate precise puntuali dal punto di vista di vista non condivisibili e questo è ovvio però assolutamente precise e puntuali per cui il suo voto di astenzione non ci per me significava semplicemente permettare questo consiglio comunale e dimostrare l'autorità che tutti noi riconosciamo non conoscendo e quindi è molto difficile Francesco ti ho detto tu perché ormai non si può comprare il suo video è molto difficile avere vita autonoma quando si ha un problema importante come il gruppo importante per la politica della esigenza ed è anche molto difficile subire forse giudizi di metodo di metodo che non appartengono a se stessi ma a deformazioni rispetto a tutto quello che è passato della politica della sinese poi noi andiamo con questa tendenza di parlare sempre dopo e di parlare forse anche male immaginandoci con buons vertevolezzi in buona sostanza Francesco noi siamo primati e ti dico quello che è cambiato noi siamo o saremo primati diciamo la nonna non laica ma quasi e come tutti primati sappiamo quando il campurano si indebolisce e quando è il momento di attaccare lo subisco sulla mia persona quotidianamente dico che però ci vuole per essere primati ci vuole anche qualche altos'altro perché ormone fondamentalmente l'intelligenza di sapersi dal loro posto e quindi il mio amico è quello che sarà la propria politica se mai vorrei continuare non solo questa esperienza ovviamente ma il futuro e so bene che è vissuto nei momenti in cui non abbiamo scordato né cosa limita un momento di 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 fatema eseguera una cosa quasi personale ho ascoltato i poteri di ignoranza si voleva sottolineare che la stagione della maggioranza fatica quella uscita dalle urne era finita non c'era bisogno perché è assolutamente palese io volevo dirsi che mi dispiace sono assicurato il postologale nel momento in cui doveva essere fatta non mi sono responsabile mi prego di citare mi prego di citare perché se una volta potrebbe diventare non so che segnale fosse del cane regalato non so che da benissimo non so se mi pare la mia